cecilia rodriguez è stata ospite insieme a ignazio mosera da vicini nessuno è normale un botta e risposta con una ragazza argentina ha generato scompiglio la showgirl argentina cecilia rodriguez è stata ospite insieme al futuro marito ignazio mosera da vicini nessuno è normale le due celebrities hanno ascoltato le esperienze dei presenti tra il pubblico in merito al tema del matrimonio poi un botta e risposta infuocato con una ragazza argentina ha generato scompiglio in studio cecilia rodriguez ciao colliona risponde così a una ragazza lo scorso lunedì 27 maggio cecilia rodriguez e il futuro marito ignazio moser sono stati ospiti di da vicino nessuno è normale ed hanno intrattenuto il pubblico del conduttore alessandro cattelan la coppia è prossima alle nozze che avverranno il prossimo 30 giugno e hanno raccontato alcuni dettagli del loro giorno speciale poi hanno ascoltato i consigli e le esperienze del pubblico ci sposiamo tra un mesetto abbiamo un po di ansia stress organizzativo è difficile sono difficili le persone perché fanno mille domande mi chiedono le spese del viaggio secondo me non si fa papà mi ha detto non ti sposare per questo così ha spiegato ignazio moser nello studio di cattelan la sua futura sposa cecilia è intervenuta ammettendo che anche sua madre le dice le stesse cose ma com'è il rapporto dell'ex ciclista con i suoi suoceri sono molto gradito in famiglia sono socievoli con me ha svelato la showgirl argentina concorrente di celebrity ha commentato le parole della sorella belen quando era stata ospite nello stesso show fa ridere perché lei ha detto che sposarsi è da presuntuosi comunque ho 34 anni ha ammesso ridendo alessandro cattelan imperterrito ha chiesto alla coppia se sia sicura di volersi sposare l'argentina ha risposto senza esitare certo per tutta la vita in seguito i futuri sposi hanno ascoltato diversi racconti di coppie di coniugi presenti nel pubblico quando il padrone si casa si è avvicinato a una ragazza argentina ha chiesto alla rodriguez di salutarla mi viene da dirle o la boluda così ha risposto la showgirl creando confusione in studio a spiegare il significato delle sue parole ci ha pensato il futuro marito ignazio moser non è carino in realtà è un intercalare che loro usano in maniera carino ma in realtà vuol dire ciao colliona ha spiegato l'ex ciclista la rodriguez è scoppiata a ridere dai era carino